Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo Rubio e sono qui per parlarvi della conferenza delle Inbring il quinto volume della saga di Miss Peregrine che per me è stata veramente una delusione coccetta voglio dire ci sta anche perché nel senso voi amate tantissimo un autore ma questo autore potrebbe anche deludervi e non poco allora il libro mi ha deluso per tanti motivi e questi motivi verranno insomma detti in questo video in una parte no spoiler in una parte spoiler perché ovviamente non è che vi posso dire sì vabbè succede quella cosa eccetera nella prima parte vi dirò che cosa non mi ha convinto senza dire niente nella seconda parte vi dirò che cosa insomma non mi ha convinto entrando nel dettaglio allora incominciamo subito col dire che la saga di Miss Peregrine è formata da tre volumi la casa dei ragazzi speciali di Miss Peregrine, Hollow City e la biblioteca delle anime che è stata una saga che io ho amato tantissimo, una saga che mi è piaciuta veramente tanto che dà veramente tantissimi punti di riflessione a fronte delle tematiche come la maternità come il crescere, il diventare adulti, che cosa comporta diventare adulti la figura di Miss Peregrine che mi era piaciuta veramente tanto è il caro Ramson che ha costruito la storia basandosi appunto su queste foto vintage che voi potete trovare tranquillamente nei mercatini dell'antiquariato e devo dire che la storia insomma ha un inizio, uno svolgimento e una fine e il caro Ramson poi ha deciso di scrivere altri tre volumi, credo che siano tre, non lo so comunque la mafia ha fatto la stessa cosa che sarebbe sua moglie solo che con Restormi la mafia ha fatto veramente un autogol Ramson l'ha fatto invece con il quinto volume perché comunque il quarto volume era molto interessante si parlava appunto delle conseguenze che sono successe insomma dopo il terzo volume di una nuova new entry e quindi sì, quindi speravo che questo quinto volume fosse stato col botto invece no, anche perché voglio dire Ramson aveva veramente tanto su cui lavorare nel quarto volume invece è stata una delusione allora, incominciamo subito col dire che il grande problema di questo romanzo è la trama che è veramente troppo troppo veloce la trama dove ci sono tante cose che non vengono assolutamente risolte c'è una trama di base, la trama principale e poi ci sono delle sottotrame che onestamente sono buttate lì così e tutto quello che i nostri eroi devono risolvere in questo romanzo lo risolvono nel giro di tre secondi cioè devo risolvere questa cosa nel giro di un minuto io già te la risolvo e questo secondo me è un grandissimo problema perché comunque il quarto volume ci ha dato insomma da pensare che la situazione fosse molto complicata invece no, invece questa situazione si risolve in tre secondi e buonanotte che onestamente anche no onestamente non ha senso e non regge soprattutto per quello che c'è stato prima e ci sono queste sottotrame che anche lì io non le ho capite e non ho capito perché lui le abbia inserite allora è come se io vi parlassi della storia di Capocetto Rosso per farvi un esempio e io vi parlassi della storia principale quindi Capocetto Rosso che raggiunge la nonna e la raggiunge poi in tre secondi insomma anche perché comunque il libro non è molto grande poi vi parlo del lupo che probabilmente è stato maltrattato bla 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 poi vi parlo della nonna che ha una relazione con il cacciatore e sono in crisi eccetera eccetera benissimo quindi la prima parte quindi Capocetto Rosso che arriva dalla nonna io ve la risolvo in cinque minuti anche lì sì vabbè arriva e buonanotte nel mentre vi parlo di tutte queste sottotrame che però sì ve le butto lì ma non servono assolutamente a nulla e questa cosa è veramente un grande problema perché poi il romanzo successivo come si concluderà onestamente cioè se lui ha dato veramente questi input queste sottotrame queste cose e anche la trama principale comunque è stata risolta in tre secondi perché io non ho cioè è una cosa veramente allucinante io non capisco come poi possa in qualche modo concludere queste cose in un solo volume o ne fa due ma anche lì secondo me avrebbe senso sì perché comunque alla fine riuscirebbe a concludere il tutto o se no in un sesto volume che mantiene il quinto ovvero è una ciofeca perché questo è stato veramente imbarazzante altra cosa che non mi è assolutamente piaciuta di questo romanzo è il fatto che ci sono i personaggi poco introspettivi i personaggi vabbè noi abbiamo Jacob perché comunque lui aveva avuto la sua evoluzione nel primo cioè dal primo al terzo e il focus doveva esserci su questa new entry ma questa new entry no cioè nel senso che poi alla fine della fiera la trama si piega su se stessa perché noi rivediamo delle cose che ritornano di qua di là che non dovevano assolutamente ritornare la trama si piega su se stessa e buonanotte e anche no anche perché poi alla fine della fiera è sempre Jacob poi il fulcro della storia eccetera eccetera e non doveva essere lui doveva essere questa new entry che noi abbiamo incontrato nella mappa dei giorni lei non ha assolutamente un'introspezione assolutamente no cioè alla fine del quarto noi abbiamo scoperto determinate cose qui che doveva essere approfondito tantissimo il suo personaggio risulta essere un personaggio secondario non un personaggio chiave della storia ed è tutto molto approssimativo tutto molto vago in queste storie che vengono inserite e risolte in tre secondi una vera delusione per questi motivi io ho dato all'ebro due stelle perché veramente veramente no cioè le tre stelle no no cioè io non do le tre stelle perché comunque sono affezionato a Ramson assolutamente no cioè io lo apprezzo tanto come scrittore ho apprezzato la sua prima saga ma questa no zero 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 molto bene adesso incomincia la parte spoiler dove appunto io vi parlerò delle problematiche entrando nel dettaglio tra tre due uno allora incominciamo subito con la trama come vi ho detto la trama ha delle cose che non vengono assolutamente risolte una di queste che onestamente non ha alcun senso è proprio la conferenza delle Inbrin allora le Inbrin si devono riunire perché c'è una guerra in atto se non trovano un accordo con questi americani praticamente perché loro poi alla fine arrivano in America quindi si devono integrare eccetera eccetera scoprirà una guerra benissimo allora a parte che tutto è narrato dal punto di vista di Jacob quindi noi non vediamo effettivamente che cosa sta succedendo il punto è che questa cosa non ha il minimo senso proprio per lo svolgimento della storia cioè io non ho capito perché è stata messa lì se poi fondamentalmente non viene approfondita e fondamentalmente poi non ha una sua una sua importanza a livello della storia io onestamente non l'ho capita non ho capito questa cosa cioè loro si riuniscono di qua e di là perché c'è questa guerra imminente bla 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 che dovrebbe scoppiare se non riescono a trovare l'accordo poi l'accordo lo trovano non lo trovano non si sa perché il focus poi viene messo su altre cose che onestamente no come vi ho detto prima c'è questa new entry ovvero il personaggio di Noor lei è una speciale che ha sempre convissuto però nel mondo dei normali e lei poi scoprirà di essere una speciale e il caro Jacob poi la introdurrà appunto nel mondo degli speciali secondo voi c'è un'introspezione secondo voi lei arriverà piano piano ad integrarsi nel mondo si farà due domande saprà che cosa succede è spaventata una crisi di identità nulla di tutto questo cioè lei arriva nel giro di tre secondi oh che bello casa dolce casa nel giro di tre secondi che bello che bello tutto eccetera eccetera e io onestamente sono rimasto lì proprio perché Noor doveva essere il personaggio chiave di tutto questo quinto volume e poi doveva essere un personaggio almeno introspettivo perché se fino a ieri viveva nel mondo dei mortali e sapeva che cos'è quel mondo catapultandoti poi in un altro mondo dove tu non sei assolutamente niente dove dovresti essere spaventata dove dovresti essere in qualche modo avere una crisi anche di identità eccetera eccetera nulla di tutto questo quindi un personaggio veramente interessante che poteva essere il fulcro della situazione il fulcro di tutto il fulcro anche della storia il focus assolutamente no perché il focus è ancora Jacob e io questa cosa onestamente anche no perché Jacob ha avuto il suo momento di gloria come si suol dire e anche basta cioè non si può ancora battere su Jacob che deve salvare la situazione di qua di là assolutamente no altra cosa che io onestamente non ho capito e come vi ho detto prima è una cosa che viene risolta in tre secondi vabbè a parte la storyline d'amore che c'è un pseudo triangolo amoroso che fondamentalmente non c'è tra Nor, Emma e Jacob alla fine Jacob capisce che Emma è ancora legata a suo nonno e quindi ciaoone quindi questa parte anche qui cioè prima di pathos ma la cosa che mi ha fatto veramente non ridire è la profezia allora alla fine del quarto volume c'è questa profezia di qua di là che loro devono scoprire eccetera eccetera trovano questa mappa del questa mappa dei giorni e la la profezia non solo viene completata in tre secondi perché comunque mancavano dei pezzi ma riescono a interpretarla in tempo zero e anche lì poi è tutto molto prevedibile perché fondamentalmente poi c'è un altro aspetto come vi ho detto prima che ritornerà è ovvero quello dei vacui e del fratello di Miss Peregrine Cole che è chiuso dentro questo anello di qua di là che insomma la profezia dice che lui ritornerà ovviamente ci sono degli ingredienti che io questa cosa veramente è allucinante cioè questi ingredienti queste cose che loro devono mettere di qua di là e guarda caso alla fine della fiera c'è ancora Miss Peregrine anche lì tutto molto prevedibile perché se la profezia parla di Cole è ovvio che lei doveva essere legata in qualche modo ma il punto è che questa profezia che dovrebbe essere criptica che dovrebbe essere delle cose innanzitutto risulta essere una ricetta di cose che ci sono cioè una ricetta di che scusatemi cioè 50 grammi di questo 50 grammi di quello che è allucinante ma il punto è che la cosa doveva essere in qualche modo enigmatica cioè loro dovevano cercare in qualche modo delle cose dei libri no nel giro di 3 secondi guarda te l'ho già risolta buona la profezia dice questo che lui deve tornare che probabilmente ritornerà poi e farà un patatrack e allora io dico benissimo allora che senso aveva la conferenza dell'Inbrin se effettivamente la profezia parla di quello non ha senso cioè non ha senso che tu mi parli di un'assemblea che vengono fatte dalle Inbrin con i cosi come si chiamano con gli americani per una guerra imminente se la profezia dice che quello lì deve ritornare che anche lì è un aspetto che noi avevamo già concluso avevamo già fatto e poteva essere lì cioè si poteva continuare la storia sull'aspetto del world building sull'aspetto politico sulle conseguenze eccetera eccetera ovviamente poi c'è la la tizia di la Nor che sarà anche lei fondamentale per però poi alla fine della fine è Jacob che deve risolvere il tutto altra cosa altra cosa che mi ha fatto veramente inorridire è il fatto che sta Nor poi è la figlia di questa B che noi l'avevamo incontrata nel primo che era legata al nonno lì eccetera eccetera questa B compare alla fine del romanzo nel giro di tre secondi e crepa cioè io mi sarei aspettato che visto che la cara Nor era la figlia di B e visto che doveva in qualche modo trovare delle situazioni eccetera eccetera visto che doveva capire il suo passato e perché lei fosse cresciuta tra gli speciali cioè scusate tra i mortali non tra gli speciali eccetera eccetera mi sarei aspettato comunque un viaggio no che mentre Reimbrina stavano lì a parlare dei fatti loro ci sarebbe stato un viaggio che Nor intraprendeva con Jacob e gli altri per trovare questa B anche sta B nel giro di tre secondi viene trovata che era in un anello sperduto dell'America introvabile di qua di là lo trovano in tre secondi riescono a trovarlo e lei muore uccisa da uno spettro nel giro di cinque minuti una cosa che non ha assolutamente senso perché V era la chiave di tutto la chiave che doveva rivelare in qualche modo le situazioni che doveva rivelare il tutto e doveva essere fondamentale anche nell'introspezione del personaggio di V invece così non è stato assolutamente cioè una cosa veramente inconcepibile questa da parte comunque di Ramson Riggs che ha una cura nel personaggio anche nelle situazioni tra l'altro il terzo volume la The Library of Soul viene in inglese non so perché si prendeva anche il suo tempo insomma qui invece nel giro di tre secondi la trova nel giro di tre secondi succede tutto veramente veramente brutto io non ho parole per descrivere la mia delusione e no non ci siamo assolutamente no io non so da cosa aspettarmi nel prossimo barra prossimi volumi non lo so assolutamente perché con tutto quello che è inserito qua dentro onestamente non lo so lo scopriremo solo vivendo molto bene fatemi sapere voi se l'avete letto se l'avete apprezzato cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto fatevi messe per tante cose belle io vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao